Ciao a tutti, oggi parliamo di coltello e parliamo soprattutto di un errore di interpretazione che viene insegnato nella maggior parte delle palestre, cioè considerare un angolo orizzontale come un angolo di attacco che viene utilizzato per la strada, anzi forse l'angolo più comune. Non è assolutamente così. Per la strada l'aggressore, durante un'aggressione perpetrata col coltello, utilizzerà l'arma in maniera istintiva e funzionale. Istintiva e funzionale significa utilizzarla dal basso verso l'alto, in questo modo qua, ovviamente in un contesto di corpo a corpo. Il concetto qual è quindi? Che se voi vi siete allenati sempre su angoli orizzontali e avete sviluppato determinate qualità tecniche, mosse e contromosse strategie, queste saranno totalmente inefficaci in un contesto di aggressione reale. Pensateci. Ciao a tutti.